Ebbene ritornati in questo nuovo video, sono TheFoxyGamer Oggi siamo su Fortnite Perché oggi giocheremo con mouse e tastiera Oggi vorrei fare, sì, ho la skin Deadpool Grande Deadpool Ehm... Oggi vorrei fare questa... questa challenge No, una sfida, vabbè Ehm... giocare a Fortnite con mouse e tastiera sulla Play Ok, ragazzi siamo dentro Ciao Hai Orange Assist? Io ho questo Ciao Deadpool e ringraziamo l'autista Allora, andiamo... Spiagge sudate Ecco, sbaglio pure pulsate per scendere Allora, spiagge sudate, sì Sabbie sudate Vuoi però adesso sentire troppo il mouse Perché... Oh mio Dio, perché... Il registratore Pia un botto Cioè, e non sarà con questo? Con la... il microfono dell'auricolare Andiamo alla casa rosa Ho voglia di un gelato a lampone Ma che cavolo è? Vabbè Ho voglia di un gelato a lampone Gelato a lampone No, 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 no Questi bambini mi mandano in crisi Pizze, patatini e mesho No, sì, ciao Indietro Allora Dov'è sta moneta? Vi prego Dov'è? Dov'è? Dai Quanto? No, no, ma veramente? Scala C E piazza Ecco l'unica cosa Va bene Ok, ci siamo Russo Amico Berry Vodka No, io sono americano Oh, ho russo Ma che Ringraziamo l'ogista E ecco Borgo Borgo Allora Giorgio Ok ci siamo raga Ok Uh l'esca Andate schiavi No No la Bastardo mouse Eccolo eccolo Non sta qua eh Oh oh No vabbè ma dai No vabbè No vabbè 15 di vita No raga 15 di vita Ok Ok No vabbè No vabbè E muori Ok ragazzi per questo video è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Da The Fox Gamer Da Deadpool E Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ok No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè Alla